Immaginazione È la parte predominante dell'uomo, la maestra d'errore e di falsità, e tanto più ingannevole in quanto non lo è sempre. Infatti essa sarebbe una regola infallibile di verità se non fosse una regola infallibile di menzogna. Ma essendo falsa il più delle volte non dà mai un segno della sua qualità e conferisce lo stesso carattere sia alla verità che alla menzogna. Non parlo dei pazzi, parlo dei più savi, ed è tra questi che l'immaginazione ha il gran dono di convincere gli uomini. La ragione ha voglia di gridare, essa non può attribuire valore alle cose. Questa superba facoltà, nemica della ragione, che si compiace di controllarla e di dominarla per mostrare quanto potere abbia su ogni cosa, ha stabilito nell'uomo una seconda natura. Essa ha i suoi fortunati e i suoi sfortunati, i suoi sani e i suoi malati, i suoi ricchi e i suoi poveri. Fa credere, dubitare e negare la ragione. Sospende le sensazioni oppure ce le fa sentire. Ha i suoi folli e i suoi savi. Non c'è nulla che ci indispettisce tanto quanto è il vedere che colma i suoi ospiti di una soddisfazione ben più piena e completa di quella che dà la ragione. Quelli che sono abili nell'immaginazione si compiacciano di se stessi ben diversamente di coloro che possono ragionevolmente compiacersi. Considerano la gente con distacco, discutono con audacia e con sicumera, mentre gli altri lo fanno con timore e con diffidenza, e quella gaiezza d'aspetto spesso conferisce loro un vantaggio nell'opinione degli ascoltatori. Tanto è il favore che i savi immaginifici ottengono presso i giudici della stessa lisma. Essa non può rendere savi i pazzi, però li rende felici, contrariamente alla ragione da quale può rendere i suoi amici soltanto miserabili, giacché l'una li ricopre di gloria e l'altra di disonore. Chi dispensa la reputazione? Chi conferisce il rispetto e la venerazione alle persone, ai libri, alle leggi, ai potenti, se non questa facoltà immaginativa? Come sono insufficienti tutte le ricchezze della terra senza il suo consenso? Di quel magistrato la cui venerabile vecchiaia impone rispetto a tutti, non direste forse che si regola con una ragione pura e sublime e giudica le cose secondo la loro natura, senza fermarsi a quelle superfule circostanze che colpiscono soltanto l'immaginazione degli sciocchi. Osservatolo quando va alla predica, dove porta un devotissimo zelo e rafforza la solidità della sua ragione con l'ardore della sua carità. Eccolo pronto a udire la predica con esemplare rispetto. Ma lasciate che il predicatore compaia? E se ha avuto dalla natura una voce rauca e un volto bizzarro, se il suo barbiere l'ha mal rasato, se per soprammercato il caso ha voluto che fosse anche sporco, scommetto che, anche se quello annuncia grandi verità, il nostro senatore perde la sua serietà. Il più grande filosofo del mondo, se si trova su una tavola più larga del necessario, ma con sotto un precipizio, sarà vinto dalla immaginazione, anche se la ragione lo convince della sua sicurezza. Parecchi non riuscirebbero neppure a immaginar questo senza impallidire e sudare. Non voglio riferire tutti gli effetti dell'immaginazione. Chi non sa che la vista dei gatti e dei topi, lo stritolamento di un pezzo di carbone, eccetera, fanno perdere il controllo della ragione. Il tono di voce si impone anche ai più saggi e muta l'efficacia di un discorso o di un poema. L'amore o l'odio mutano volto anche alla giustizia. Un avvocato ben pagato anticipatamente trova più giusta la causa che difende e il suo fare ardito lo fa apparire assai meglio ai giudici ingannati da quell'apparenza. Ridico la ragione che un venticello ha in sua balia in tutte le direzioni. Potrai ricordare quasi tutte le azioni degli uomini. Potrai ricordare quasi tutte le azioni degli uomini, le quali forse hanno impressione soltanto perché colpiscono l'immaginazione. Infatti la ragione è stata costretta a cedere e la ragione più savia accetta come i suoi principi quelli che l'immaginazione degli uomini ha temerariamente introdotto in ogni luogo. Chi volesse seguire unicamente la ragione sarebbe un pazzo secondo il giudizio della gente comune. Bisogna giudicare in base al giudizio della maggioranza. Bisogna lavorare tutto il giorno per dei beni riconosciuti come immaginari perché ad esse così è piaciuto. E quando il sonno ci ha ristorati di tutte le fatiche della nostra ragione bisogna subito balzare dal letto per rincorrere le chimere e subire le impressioni di questa padrona del mondo. Ecco uno dei principi dell'errore. Ma non il solo. L'uomo ha certamente avuto ragione a rendere alleate queste due potenze. Tuttavia se in tale alleanza o pace l'immaginazione ha avuto un ampio vantaggio nella guerra il suo vantaggio è quasi completo. Mai la ragione sorpassa del tutto l'immaginazione. Ma il contrario è proprio ciò che accade ordinariamente. I nostri magistrati hanno ben capito questo mistero. Le loro toghe rosse, i loro ermellini di cui si ammantano come gatti villosi, i palazzi dove giudicano, i fiordalisi cioè le bandiere, tutto quell'apparato imponente era molto necessario e se i medici non avessero palandrane e pantofole e i dottori non avessero la berretta a quattro pizzi e ampie vesti non avrebbero mai ingannato il mondo che non può resistere a questa così autentica ostentazione. Se quelli possedessero la vera giustizia e se i medici sapessero la vera arte per guarire non saprebbero che farne delle loro berrette a quattro pizzi. La maestà di queste scienze sarebbe abbastanza venerabile per se stessa ma poiché possiedono soltanto delle scienze immaginarie devono pur usare quegli inutili aggeggi che colpiscono l'immaginazione con la quale hanno a che fare. Infatti in questo modo richiamano il rispetto. Soltanto i soldati non si camuffano perché in realtà la loro parte è più sostanziale e se si impongono con la forza e altri col trucco. Ed è per questo che i nostri re non hanno cercato siffatti travestimenti. Non si sono mascherati con abiti straordinari per apparire quel che sono ma si sono fatti accompagnare da guardie e alabardieri. Quei ceffi armati che hanno mani e forza soltanto per loro. Quelle trombe e quei tamburi che marciano in testa e quelle legioni che li circondano fanno paura anche ai più forti. Essi non hanno soltanto le vesti ma anche la forza. Bisognerebbe avere una mente ben spregiudicata per considerare come un uomo qualunque il gran sultano circondato da 40.000 giannizzeri nel suo superbo serraglio. Noi non riusciamo a vedere un avvocato in toga e tocco senza farci un'opinione favorevole della sua capacità. L'immaginazione dispone di tutto, crea la bellezza, la giustizia e la felicità che sono tutto nel mondo. Mi piacerebbe assai vedere il libro italiano di cui conosco appena il titolo e che vale da solo molti libri. Della opinione regina del mondo. Lo sottoscriverei senza conoscerlo ad eccezione del male se ce n'è. Questi presso a poco sono gli effetti di quella facoltà ingannatrice che pare ci sia stata data espressamente per indurci in un errore necessario. Ma noi abbiamo molti altri principi d'errore. Le impressioni antiche non sono le sole a ingannarci. Anche il fascino della novità ha lo stesso potere. Di qui provengono tutte le discussioni degli uomini, i quali si rinfacciano o di seguire le loro false impressioni dell'infanzia o di correre temerariamente dietro le novità. Chi sta nel giusto mezzo si faccia avanti e lo dimostri. Non c'è principio anche naturale, anche ricevuto fin dall'infanzia che non si possa far passare per una falsa impressione sia dell'educazione sia dei sensi. Si dice poiché avete creduto fin dall'infanzia che una cassa era vuota quando dentro non ci vedevate niente avete creduto possibile il vuoto. Questa è un'illusione dei vostri sensi rafforzata dall'abitudine ma che la scienza deve correggere. Altri invece dicono poiché vi è stato detto nelle scuole che il vuoto non esiste, si è corrotto il vostro senso comune, il quale lo comprendeva abbastanza chiaramente prima di questa cattiva impressione. Questa ora deve essere corretta ricorrendo alla vostra natura primitiva. Chi dunque ci ha ingannato? Il senso o l'istruzione? Abbiamo un altro principio d'errore e sono le malattie. Esse ci rovinano il giudizio e i sensi. Se le grandi malattie li alterano sensibilmente non c'è dubbio che anche le piccole vi lasciano un'impronta secondo la loro proporzione. Il nostro interesse è un altro meraviglioso strumento per farci chiudere gli occhi piacevolmente. Non è lecito al più equo uomo del mondo farci giudice in causa propria. Conosco alcuni che per non cadere in questo amor proprio sono stati i più ingiusti in senso opposto. Il mezzo sicuro di perdere una causa giustissima era di fargli raccomandare dai loro stretti parenti. La giustizia e la verità sono due punte tanto sottili che i nostri strumenti sono troppo grossi per toccarle con esattezza. Se ci arrivano smussano la punta e poggiano tutto intorno, più sul falso che sul vero. L'uomo dunque è così abilmente congegnato che non possiede alcun principio giusto del vero e molti eccellenti principi del falso. Vediamo ora come, ma la causa maggiore di questi errori è la lotta tra i sensi e la ragione. Bisogna iniziare il capitolo sulle facoltà ingannatrici così. L'uomo è un essere pieno di errore, errore naturale e ineliminabile senza la grazia. Niente gli mostra la verità, tutto lo inganna. Questi due principi di verità, la ragione e i sensi, non solo mancano di sincerità, ma si ingannano a vicenda. I sensi ingannano la ragione con le false apparenze e questo stesso inganno che tendono alla ragione lo ricevono a loro volta dalla ragione, la quale in questo modo si vendica. Le passioni dell'anima turbano i sensi e producono in essi delle impressioni false. mentiscono e si ingannano a vicenda. Ma oltre questi errori che vengono a caso e per mancanza di intelligenza, con le sue facoltà eterogenee, l'immaginazione ingrandisce le piccole cose fino a riempirse nell'anima, mediante una valutazione fantastica, e con una temeraria insolenza impicciolisce le grandi sino alla sua misura, come fa parlando di Dio. Le cose che ci preoccupano di più, come il nascondere l'esiguità della propria ricchezza, sono spesso cose da nulla. Sono un nulla che la nostra immaginazione ingrossa come montagne. Un diverso comportamento dell'immaginazione ti fa scoprire questo nulla senza difficoltà. La mia fantasia mi fa odiare chi gracchia e chi soffia mangiando. La fantasia ha un gran peso. Quale insegnamento ne trarremo? Seguire questo peso per il fatto che è naturale. No, piuttosto gli opporremo resistenza. Quasi quidquam infelicius sia tomine cui sua figmenta dominantur, plinio. I bambini che si spaventano della faccia che si sono imbrattata sono dei bambini. Ma com'è possibile che Chiara così sciocco da bambino diventi poi abbastanza forte in età adulta? Non facciamo che mutar di fantasia. Tutto quello che è stato debole non può essere mai assolutamente forte. Si ha voglia di dire è cresciuto, è cambiato. Però è sempre lo stesso. L'abitudine è una nostra natura. Chi si abitua alla fede si crede e non può più non temere l'inferno e non crede ad altro. Chi si abitua a credere che il re è terribile, eccetera. Chi dunque può dubitare che essendo la nostra anima abituata a vedere numero, spazio, movimento, crede a tutto questo e a nient'altro che a questo. Quando vediamo un fenomeno accadere sempre allo stesso modo, ne concludiamo che è una necessità naturale, come domani farà giorno, eccetera. Ma spesso la natura ci smentisce e non si assoggetta alle sue stesse regole. Che cosa sono i nostri principi naturali se non i nostri principi di abitudine? E nei fanciulli che cosa sono quei principi che hanno ricevuto dall'abitudine dei loro padri come negli animali? E nei fanciulli che cosa sono quei principi che hanno ricevuto dall'abitudine dei loro padri come negli animali il predare? Una differente abitudine ci darà altri principi naturali, come si vede dall'esperienza. E se ce ne sono alcuni che non possono essere cancellati dall'abitudine, ce ne sono altri che provengono dall'abitudine contro la natura, che non possono essere cancellati dalla natura e da una seconda abitudine. Ciò dipende dalla disposizione. I padri temono che l'amore naturale dei figli possa cancellarsi. Qual è dunque questa natura capace di essere cancellata? L'abitudine è una seconda natura che distrugge la prima. Ma che cos'è la natura? Perché l'abitudine non è naturale? Temo assai che questa natura sia essa stessa una prima abitudine, come l'abitudine è una seconda natura. La natura dell'uomo è tutta natura. Non c'è niente che non si possa rendere naturale e non vi è niente di naturale che non si possa perdere. L'uomo è esattamente omne animal. La memoria, la gioia sono dei sentimenti e anche le proposizioni geometriche divengono dei sentimenti, poiché la ragione rende i sentimenti naturali e i sentimenti naturali scompaiono mediante la ragione. Se siamo usi a servirci di cattive prove per dimostrare gli effetti della natura, non vogliamo più accettare le buone prove appena vengono scoperte. L'esempio che se ne diede riguardò la circolazione del sangue per spiegare perché la vena si gonfia al di sotto della legatura. La cosa più importante per tutta la vita è la scelta del mestiere e tuttavia ne dispone il caso. L'abitudine forma i muratori, i soldati, i copritetti. È un eccellente copritetti si dice e parlando dei soldati si dice sono proprio pazzi. Altri invece dicono niente è tanto grande quanto la guerra. Il resto degli uomini sono dei conigli. A furia di sentire al tempo dell'infanzia lodare questi mestieri e disprezzare gli altri, si finisce con lo scegliere perché naturalmente si ama la verità e si odia la follia. Quelle parole ci impressionano e noi sbagliamo soltanto nell'applicarle. La forza dell'abitudine è tanto grande che mentre la natura ha fatto soltanto degli uomini da questi invece si ottengono tutte le condizioni degli uomini. Infatti ci sono paesi tutti di muratori, altri tutti di soldati eccetera. Indobbiamente la natura non è così uniforme. Dunque è l'abitudine che produce tutto questo perché coarta la natura e talvolta la natura ha il sopravvento e trattiene l'uomo nel suo istinto nonostante ogni abitudine buona o cattiva. La prevenzione che induce in errore. È deplorevole vedere tutti gli uomini deliberare soltanto sui mezzi e mai sul fine. Ognuno pensa come assolvere agli obblighi della propria condizione ma la scelta della condizione e della patria ci viene dalla sorte. È pietoso vedere tanti turchi, tanti eretici, tanti infedeli seguire le abitudini dei loro padri per il solo fatto che ognuno di essi è soltanto prevenuto che quelle sono le migliori. Ed è questo che spinge ognuno a una particolare condizione di fabbro, di soldato eccetera. Ed è per questo che i selvaggi non sanno che farsene della Provenza. C'è una differenza universale ed essenziale tra le azioni della volontà e tutte le altre. La volontà è uno dei principali organi della credenza. Non c'è che formi la credenza ma perché le cose sono vere o false secondo il lato da cui si considerano. La volontà che si compiace più di una cosa che di un'altra distoglie la mente dal considerare le qualità di quelle cose che essa non ama vedere. E così la mente che cammina di pari passo con la volontà si ferma a guardare il lato che piace a questa e così giudica da quel che vede.